Zio Sheldon al Maggiore Rico! Zio Sheldon al Maggiore Rico! La mano nera! Ti dice niente? Militari loschi, corazze pesanti, ben addestrati. Sì, esatto, sono loro. Hanno catturato molti ribelli a Medici e in altri posti in giro per il mondo. Pensavo ti interessasse, amico. Magari volevi salvarli o che so io. Il fatto è che non sappiamo dove li tengono prigionieri. Abbiamo scoperto solo che hanno approntato un aereo da carico su una pista d'atterraggio a nord ovest di Medici. Non sappiamo altro. Grazie. Grazie. Parcheggio perfetto. Grazie a tutti. 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 Sheldon. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spionaccio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sorpresa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . Grazie a tutti. . Grazie a tutti. . Grazie a tutti. . , grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. forse. , grazie a tutti. , grazie a tutti. , ha tutti. . , grazie a tutti. 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 , grazie a tutti.